Presentati gli appuntamenti di Puglia Events 2019 al Salone Internazionale del Turismo a Berlino in programma fino al prossimo 10 marzo. Vediamo. Dalla Fiera di Berlino, la più importante fiera del turismo europea, che peraltro conduce, guida verso la Puglia milioni di turisti tedeschi, noi cominciamo un viaggio per destagionalizzare la nostra stagione turistica per portarla anche fuori dalle settimane estive. E lo facciamo comunicando qui a Berlino anche la grande stagione degli eventi. Brian Ferry, Patty Smith, una grande intensità di lavoro che viene coagulata dentro una idea di Puglia fatta a sé di mare di natura straordinaria, ma anche di eventi culturali molto importanti che si incarnano dentro una manifestazione. Il Medimex, che restituisce a diverse città della Puglia, ma soprattutto quest'anno a Taranto e a Foggia, una dimensione di attrazione senza della quale queste città rischiano di essere un po' trascurate. Ecco, invece noi impuntiamo su Taranto e Foggia per costruire in queste città una idea anche turistica che possa avere gli stessi effetti positivi delle altre città della Puglia. Con gli operatori pugliesi all'ITB di Berlino, il salone del turismo tra i più importanti del mondo, per presentare non solo le bellezze della Puglia, ma anche gli eventi che arricchiscono la vacanza per 365 giorni all'anno. Insomma, a chi è appassionato di cinema, a chi ama la musica, chi ama l'arte, la cultura, lo spettacolo, offriamo una Puglia tutta da gustare. L'enogastronomia, la buona cucina pugliese, arricchisce il viaggio. Insomma, la passeggiata nei borghi meravigliosi della Puglia può essere confortata e aiutata e accompagnata da questa meraviglia di stagione culturale pugliese.